Pronto? Pronto, pronto! Buongiorno, buongiorno! Ma che è pronto, pronto, buongiorno, buongiorno? Scusi, con chi parlo? Alla catalla, alla catalla! Sì, alla catalla è bastata! Buongiorno, buongiorno! Alla catalla con tutto cuore, non alla catalla! Con tutto cuore, con tutto cuore però! Va bene, sì! Buongiorno, buongiorno! Sono Savo Savo! Ah, Salvo Savo, sì, mi ricordo di lei! Sampalone, salvatore, c'è amico il Savo Savo, vedi che è Savo? Io sono Salvo, sì! Io sono Savo Savo! Va bene! ma lei lo sapevi che mi chiamo Sampo Sampo no ve lo spieghi perché lo ridica di nuovo al pubblico ce lo spiego allora io mi chiamo Sampo Sampo per un motivo molto semplice me l'anno, io ero un studiano un giornato, lo conosce lei? no non lo conosco però dal peccoro un giornato capisco che non era molto saggio, tipografo tipografo ma un giornato un giornato ma per bene per bene ma tipografo me l'anno, io sono nato sono venuto alla luce me l'anno, io ero un anno materno giustamente non si chiama Pozzo io ero un giornato me l'anno, io ero un giornato ora secondo me io ce l'ho stavo male ma perché? ma non so, perché fosse voleva che mi chiamava come io, come Uzzoyano no, lo chiamavano tutto Uzzoyano giustamente Uzzoyano un giornato sperava che ti mettessero il nome ma non era tipografo ce l'ho detto che era tipografo sì, me l'ha detto era tipografo ma un giornato un giornato ma tipografo l'anno era il numero uno basta, arrivavo all'anagrafe come arrivavo da non è che si arrivava da no, perciò il giornato dell'anagrafe ci resta come si chiama sto vicino a come reggiorciare e lui ci resta e aspetta come era aspetta come era io ci pensava a un certo punto lui diceva ma è bene, giusto è salvatore, salvatore ti chiedo dell'anagrafe ti scusi salvatore, salvatore meranno salvatore, salvatore ma salvatore, salvatore salvatore, salvatore ci resta meranno io in chiuso ci scrivevo salvatore, salvatore ma no e quindi mi chiamo salvatore, salvatore vedi amici sapposavo perché meranno era tipografo ma ignorante ignorante ma un giornato intronato ma tipografo bravo non è difficile anche se mi sembra strano meranno era talmente intronato che lei deve sapere che c'era un amico suo che aveva un negozio di abbigliamento amico suo non è stato diciamo in gioventù amice va bene sì vecchia amicizia questo suo amico che era anziano come meranno giustamente dice basta mi voglio ritrare dall'atterità per la prima di giugno chiudo il mio negozio e quindi voglio fare una svendita promozionale per chiudere il mio negozio meranno che era tipografo ma ignorante ignorante ma per bene ma tipografo sì ed era tipografo ma un giunato un giunato ma tipografo ci riesce a fare se mi metti ti voglio fare io il cartello per la svendita perché me l'hanno era tipografo ignorante ma tipografo sempre tipografo era sì signora Rosa l'endomani io non ci buttavo sapete mattina presto no ci mise questo cartello come un chitto amico ora più vuol dire il negozio i gendoli affrotta abbiate e di intra abbiate e di intra perché giustamente si picchiavano i robbi e si buttavano senza pavare perché me l'hanno era tipografo ma era ignorante ignorante ma per bene per bene ma un giunato un giunato ma tipografo lo sapete perché ci aveva scrivuto no chiedo non chiudeva prima di giugno sì chiedo ci aveva scrivuto aperto tutto omaggio solo che aveva scrivuto tutto omaggio i cristiani tre seuli se buttavano di cosa capito perché era ignorante e il giunato ma tipografo grazie arrivederci signora Rosa arrivederci ciao salvo salvo ciao ciao va bene alla catanna tuttutukari ciao ciao Grazie.